ragazze questo è un disco che non avete idea mi fa ballare mi fa ballare fermatelo un grazie veramente a Gio Bona Massa che ha scoperto che ha scoperto io sono pazzo che ha scoperto questo talento incredibile Joan Shaw Taylor una chitarrista rovente con il cuore grande come quello di Bethart e di Martha Ramsey Shelly Crew un album straordinario di blues ritme blues rock con assoli devastanti con una formazione incredibile cioè ragazzi voi non avete idea sentite un po' un attimo tanto se c'è cancella Facebook mi se ne prega tanto le parole mie non le cancellerà mai abbiamo scoperto un nuovo talento ragazzi come l'abbiamo fatto con malta re ne ve lo proponiamo assolutamente da avere questo disco blues di Joan Shaw Taylor finalista bionda incredibile con una formazione spettacolare spettacolare accattatevelo svidi Robè fermo che ti svidi oltre al menisco anche manca vai mi svidi mi svidi mi svidi mi svidi vai fermatelo ciao 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 Grazie a tutti.